Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti, siamo ormai alla vicina di Natale, Natale, e sto dedicando alcuni piccoli video di riflessione a quelle persone che non ci sono più e che contro la loro volontà non ci sono più, sono state barbaramente uccise, quindi anche a distanza di tanti anni, come non pensare anche a un altro caso che noi abbiamo trattato e trattiamo, quello della giovane Nada, Nada Cella, che nel lontano 6 maggio del 1996 fu barbaramente assassinata a Chiavari. Ora vedete, questo caso mi è stato particolarmente a cuore per tanti anni, anche se è stato un cold case per tanto tempo, però poi, grazie alla criminologa Pesce Delfino, questo cold case ha avuto una svolta e oggi è stata rinviata a giudizio Anna Lucia Cecere, una ragazza, come sapete, che all'epoca aveva forse una storia con il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Nada Cella, forse era depositario di un segreto dell'ufficio, c'era qualcosa che non andava bene, la stessa Nada era in procinto di andare via da quell'ufficio, aveva due giorni prima preso un floppy disk dal computer del Soracco, forse con dei segreti, perché questo floppy disk non è stato mai più ritrovato, ne parlava giorni prima con la mamma Silvana, dicendo se sapessi, in ordine a un filmato che parlava di usura, diceva se sapessi quante cose brutte che ci stanno intorno a questa storia. Probabilmente la ragazza voleva andare via per questo. Quindi c'è un mix in questa storia, sia di gelosia personale, di antipatia, che sembra che questa Anna Lucia Cecere volesse già da tempo prendere il posto di Nada in ufficio, stare vicino a quest'uomo di cui lei era infatuata. E quindi ecco che quando c'è un mix di odio, di interessi, di amore malato, ecco che può succedere quello che si pensa sia successo. E quindi viene trovata massacrata questa natacella e viene trovata massacrata. E per tanto tempo questo caso è rimasto così. Poi la criminologa Donella Pesce Delfino mette insieme i pezzi di questo puzzle e scopre il giallo del bottone. Cioè questo famoso bottone insanguinato trovato sotto il corpo di Nada corrispondeva esattamente ai bottoni trovati a casa di Anna Lucia Cecere ed erano bottoni non casuali, molto particolari. Evidentemente che in un disperato tentativo di difesa la Nada aveva strappato. E perché non si era mai saputo niente di questo bottone? Perché il verbale di sequestro dei carabinieri non era, chissà per quale motivo, mai stato trasmesso alla polizia giudiziale che a suo tempo coordinava quella indagine. Ora, messa a posto questa vicenda qui e messa a posto tanti altri elementi, è stato deciso di rinviare a giudizio Anna Lucia Cecere con l'imputazione appunto di questo atroce delitto e rinviare a giudizio anche il Marco Soracco e sua madre per favoreggiamento addirittura da una ricostruzione. Si pensa che il Marco Soracco possa aver addirittura sorpresa ancora lì, nello studio, la Anna Lucia Cecere e di averne favorito la fuga forse proprio perché ricattato su un terribile segreto. E un'altra cosa strana è che nemmeno un mese dopo questa Anna Lucia Cecere che non aveva tanti mezzi di sostentamento viene addirittura, se ne va in Piemonte, si prende una bella casa, mobili nuovi e si pensa che tutto questo denare sia proveniente proprio dal Soracco. Quindi vedremo questa storia come andrà a finire perché tra poco si avverrà il processo dopo tanto tempo in costa di Assise e vedremo se Natacella avrà giustizia. Quindi anche in questo Natale un ricordo, un ricordo veramente di questa ragazza e un pensiero anche alla sua anziana mamma che da tanti anni aspetta giustizia. Grazie, grazie, condividete questo video e come dico sempre un abbraccio a tutti quanti voi.